buongiorno è il giorno 11 gennaio duemila invito il consigliere giovane in qualità di segretario consigliere romano a chiamare l'appello frasca polara autorizza la distrazione presente autorizza la registrazione di napoli presente autorizza la registrazione orcinetti gallè assente governale presente autorizzo la registrazione longo presente autorizzo la registrazione palumbo assente romano presente schembri presente autorizzo la registrazione allora presidente assenti solo forsinetti gallè e palumbo e sette presenti grazie segretario verificata quindi la presenza del numero legale dichiaro aperta la seduta odierna presa dell'anno e quindi rivolgo ai consiglieri un saluto particolare a tutti quanti voi e allora passiamo al punto numero uno eh comunicazioni eh del presidente io mh cercare alcune comunicazioni ehm e più recenti eh e forse eh eh importanti ovviamente non sono in ordine eh sono in ordine spazio non ho visto anche la mole eh comunicazioni pervenute trattandosi eh della prima saluta dell'anno eh è stato passato un un po' di giorni dall'ultima seduta e allora eh posso comunicare che eh è stata prorogata la sospensione dell'ATL eh fino ehm fino al 10 gennaio ma è stata prorogata tuttora eh nell'ambito di decisione nell'ambito dei provvedimenti legati al permanere della emergenza sanità legata al covid-19 per eh in attesa diventare misure di contenimento da parte del Governo nazionale e del Governo nazionale e regionale. Poi un'altra eh comunicazione ma sicuramente voi ne sarete già al corrente riguarda allora il provvedimento che ehm di chiusura delle scuole di ogni ordine grado da parte del sindaco per i giorni eh della scorsa settimana per il rischio all'otto e al nove eh gennaio eh scorso e mh e poi eh a questo provvedimento hanno fatto seguito altri provvedimenti del Governo regionale eh che ha eh prorogato eh la chiusura per alcuni giorni eh sicuramente per una settimana eh delle scuole di primo e secondo eh grado oltre a e quelle eh ai istituti superiori. La materia è assolutamente eh in ehm in evoluzione e quindi vi saranno cambiamenti, novità. Invece per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell'infanzia oggi invece sono regolarmente eh riaperti. Eh poi vi volevo eh comunicare che è stata chiusa alla postazione della tricomi eh dopo un accertato caso di positività di un dipendente. Eh stesso eh discorso eh riguarda ehm una postazione anagrafica che si trova eh a bocca di falco quindi nella specifica via di piazza Pietro Micco a ventisei eh sempre a causa eh del eh diffondersi del covid visto che un dipendente è risultato positivo al covid e ancora sono eh chiuse eh sia la postazione di via tricomi che di eh del quartiere eh bocca di falco. Poi un'altra eh comunicazione riguarda eh la chiusura della eh posta dell'ufficio centrale anagrafico di via l'Azio eh la decisione sempre eh a causa di un accertato caso di positività di un dipendente. Come da protocollo si procederà eh in tutti questi casi con la sanificazione e poi eh una volta eh ottenuto eh nulla host dell'ASP si potrà eh procedere con la eh riapertura eh delle eh postazioni di questi uffici. Ehm poi eh ci sono comunicazioni che vi invierò eh per email anche per evitare che la seduta eh venga eh monopolizzata eh da queste eh comunicazioni. Posso dirvi che anche un dipendente di Palazzo delle Aquile è risultato positivo eh la scorsa settimana e che si è proceduto nel frattempo alla eh sanificazione e alla riapertura della ehm dello stesso eh Palazzo delle Aquile. E poi vi volevo eh comunicare anche ecco che eh dal eh quattro gennaio fino al trentuno gennaio sono aperte le iscrizioni agli asili nido per il prossimo anno. Ehm quindi per l'anno scolastico 2021-2022. Le domande sono sicuramente online. Ehm questo allegato eh in questo in questo comunicato che vi girerò o forse già ve l'ho girato comunque mh per se per no ve lo giro. Vi sono sono contenuti appunto le si sintetizzate quali sono i requisiti eh per l'iscrizione e poi bisogna appunto eh registrarsi al portale della scuola attraverso il sito del comune per poter eh completare la domanda. Io mi auguro che i cittadini eh non diciamo vengano messi nelle condizioni eh di poter presentare eh le domande visto e considerato che è la prima volta che la domanda si dovrà presentare obbligatoriamente eh online eh visto che nel gennaio del duemilaventi ehm non era stato ancora dichiarato lo stato di emergenza eh sanitario. E poi ehm vi sono eh stati altri episodi eh che hanno riguardato comunque gli asili in nido eh tra cui eh sicuramente ne sarete ehm al corrente eh un atto eh ehm vandalico eh che ha eh interessato il l'asilo eh Peter Pan nel quartiere ehm Cep se ricordo eh bene un vero e proprio incendio questa struttura ehm e posso dirvi dalle comunicazioni pervenute che insomma ve le giro che comunque ehm eh sono ehm a state avviati i lavori di ehm manutenzione eh della eh struttura. Subito dopo l'avvenuto incendio. Poi vi volevo comunicare allora che eh domani già ve l'ho comunicato di email e sarà presente il dottore Paolo Di Matteo in ehm eh che eh in sostituzione del dirigente dottor Galatioto. Ora la presenza del dottor Di Matteo ehm che ha riscontrato il nostro invito eh ehm è eh eh finalizzata alla illustrazione di due richieste di due proposte di delibere con di delibera contenenti ehm due schemi di regolamento. Tutte e due provenienti dallo stesso servizio, servizio SUAP. Ecco la ragione per la quale eh il dottor Di Matteo ha inteso eh partecipare a una seduta per illustrare a me due i regolamenti. Ora i regolamenti eh sono eh ve li ho già elencati ehm vi ho già informato quali sono eh gli argomenti. Ehm uno è il eh regolamento eh scusate che non lo trovo. Allora ci vado a dire qua. Allora uno è il regolamento eh perdonatevi. Allora uno è il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti dal demanio al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E l'altro è un ehm regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il dottor Di Matteo ha inoltrato anche un altro un altro allegato che eh sintetizza credo alcuni mh eh dati eh che sono allegati alla 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 proposta. Quindi domani eh si eh discuterà eh col dottore Di Matteo di eh questi due eh di queste due richieste di parere e che sarà presente eh diciamo eh nell'orario eh del eh diciamo quello che intendiamo noi del secondo appello quindi diciamo eh non quello del primo appello ma l'orario successivo anche se sarà chiamato eh fino a prova contraria un un solo appello come da come da ehm d'accordo diciamo in conferenza in conferenza eh dei capi gruppo. Eh poi se vi sono novità io mi 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 atterrò alle novità. Eh mh e poi ehm allora eh poi volevo dirvi che ehm è mio intendimento se vi sono ehm chiedo a voi se vi sono ehm ehm eventuali ehm ehm in possibilità a convocare una riunione in videoconferenza per eh definire gli aspetti legati alla ehm all'avviso per la costituzione della ehm per la convocazione della prima assemblea del comitato educativo e ehm e anche eh per discutere ehm degli argomenti che si dovranno ehm trattare durante la questa assemblea mi riferisco ad esempio al regolamento ehm interno da eh preparare eh in vista di questa prima assemblea. Quindi se siete d'accordo io ehm sarei appunto dell'avviso di convocare una riunione ehm eh lunedì eh prossimo ehm in un orario diverso da quello del consiglio. Eh quindi mi io avevo ipotizzato di convocarla quindi lunedì diciotto e sempre eh con la dottoressa Paglino responsabile sociale e con la dottoressa da Pruiti del PONmetro eh lunedì prossimo alle nove e mezza però non so se ehm diciamo chiedo eh diciamo eh conferme a a voi se questa convocazione per quella data e per quell'orario va bene oppure ci sono ci sono incompatibilità. Casomene me lo fate sapere nel corso dei lavori così io procedo a fare la subito finiti lavori a fare la la convocazione. E allora vi eh poi vi sono comunque delle comunicazioni al sindaco che riguardano eh eventi eh ricorrenze riferite a ehm la la l'uccisione di eh Piersanti Mattarella avvenuta il giorno dell'ipefania del millenovecento ottanta. Il ricordo del sindaco ehm eh di Beppe Alfano ucciso l'8 gennaio del millenovecento novantatré. Il ricordo del sindaco per l'uccisione anche eh di eh Giuseppe Fava eh sempre per mano mafiosa così come Beppe Alfano così come Piersanti Mattarella così come il piccolo eh di Matteo di cui oggi ricorre eh l'anniversario eh appunto ucciso per mano mafiosa eh proprio ehm credo che oggi ricorra eh eh la la l'anniversario il triste anniversario e allora ci eh io poi sicuramente avrò altre ehm magari comunicazioni comunque eh volevo chiedere ai consiglieri eh ah e poi c'è una comunicazione scusatemi del nove gennaio allora eh che riguarda eh una eh l'ordinanza l'ordinanza sempre 165 del sindaco che è attiva fino al 15 gennaio eh ordinanza del 12 dicembre che attiva nel 15 gennaio che eh prevede il divieto di eh stazionamento in alcuni quartieri dalle ore 11 della mattina fino alle ore 22 della sera nei quartieri Triborale Castellammare Palazzo Reale Monte di Pietà Politeama eh Libertà sì poi volevo anche dirvi prima che me lo dimentichi che vi ho inviato anche una nota relativamente all'avvio eh della screening a partire da oggi ehm uno screening con i tamponi rapidi del personale dei servizi comunali e degli asili nido eh dei dei servizi comunali di asili nido e scuola all'infanzia attivo oggi domani è mercoledì 13 gennaio dalle ore 14 alle ore 18 alla Fiera del Meterno quindi vi sarà uno spazio eh da quello che ho letto eh dedicato eh ah no qua c'è scritto a partire dalle ore 14 c'è scritto dalle ore 14 fino alle 18 l'accesso dedicato presso via però screening con da punire eh per persone degli assili nido e scuola infanzia eh sia pubbliche che private vi è scritto il dirizio è gratuito è partito grazie alla questione tra comune Aspese e Cilistra è affettuato oggi domani e mercoledici presso la prima intera l'ingresso sarà consenso da piazza Cascino quindi è un ingresso ehm eh diverso rispetto a quello eh a cui eh da cui accedono gli altri ehm cittadini che intendono sottoporsi a a un eh tampone ehm e questo è me l'ho girata questa mattina allora ehm chiedo ai consiglieri eh se vi sono delle comunicazioni da dare eh prego sì presidente prego presidente già dalle sue comunicazioni eh abbiamo il polso di quale sia la situazione covid nella nostra città eh purtroppo il il contagio in questo periodo sta dilagando eh sarà stato complice il periodo di vacanze di incontri e riunioni familiari di scambio di auguri fatto sta che eh la la situazione nella nostra città è una situazione comunque allarmante eh la prospettiva positiva dei vaccini è una prospettiva che non può farci calare la tensione perché sappiamo che ci potrà eh proteggere soltanto in un periodo medio lungo ma purtroppo in questi giorni eh la la l'attenzione e la prudenza deve essere massima eh credo a a a memoria che una situazione di contagi così elevati nella nostra città non lo abbiamo mai avuto dal momento in cui è scoppiata questa epidemia eh e tutti noi invece ricordiamo che in un periodo quindi in cui i numeri erano ben più bassi eh utilizzavamo delle norme ben più restrittive e eh i movimenti quotidiani erano eh ben più limitati quindi eh il mio intervento eh mira a eh aumentare questo livello di attenzione soprattutto in ambiti di competenza comunale dove a giudizio del sottoscritto questa attenzione al momento sia eh colpevolmente e gravemente sottovalutata. mi riferisco all'ambito dei mercati rionali dove eh i i dpcm e le misure di contenimento del virus vengono quotidianamente eh violate eh perché eh come purtroppo è notorio i mercati rionali nella città di Palermo e anche nella nostra circoscrizione eh si svolgono in assoluta l'assenza di alcun tipo di contingentamento non si vede più l'ombra di eh transenne eh non si vede alcuna ombra di eh controlli da parte della Polizia Municipale non si vede alcuna ombra di limite al all'ingresso nelle aree mercatali da parte di eh cittadini, utenti e clienti degli stand. Eh questa violazione viene considerata grave eh unitamente a un eh diffusa a una diffusa assenza di controlli anti-assembramento. Lei stesso ha ricordato che ci sono in vigore delle 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 norme comunali che dietano il la sosta in diffuse aree anche della nostra circoscrizione ma purtroppo eh vediamo sia in giorni feriali sia in giorni festivi eh in concomitanza con delle aree di svago o in concomitanza con eh uffici postali o eh negozi eh il diffondersi e l'aumentare di assembramenti in un periodo ripeto quale quello attuale le stesse ore in cui si svolge la nostra seduta a distanza per motivi precauzionali in cui i livelli di contagio a Palermo sono più elevati eh che mai. Grazie. Allora grazie. Allora io mh stavo eh scartabellando perché eh ricordo che eh è eh pervenuta una risposta a una sua interrogazione riguardante il mercato di via eh Jung. Questa risposta eh speravo di trovarmela nelle comunicazioni ma non l'ho trovata però mi è venuta in mente eh o forse eh la devo cercare eh con più eh attenzione. È comunque una risposta a un'interrogazione eh pervenuta dal comando di polizia municipale ehm e se l'è inviata anche a lei. Eh e questa risposta della del comando di polizia municipale infatti non l'ho non l'ho inserita più all'ordine del giorno la sua interrogazione perché la risposta è pervenuta rispetto a eh le sue eh richieste di informazioni eh su i controlli ehm al mercato di via Jung e il eh comando di polizia municipale ha risposto eh che ehm i controlli sono stati effettuati e eh non sono state riscontrate delle ehm delle grosse eh anomalie. Eh eh io eh per quanto mi mi riguarda eh ho da obiettare rispetto a questa eh risposta del eh comando di polizia municipale ma più l'altro il diritto dell'interrogante eh 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 rispondere eh però eh 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 alla luca ecco coordinamento generale è una eh un riscontro pervenuto lo scorso trentuno dicembre con riferimento al riscontro la vostra per oggetto eh l'oggetto eh l'oggetto è mercatino ritorni via Jung rispetto all'orme anti-covid si rappresenta che si rappresenta che i servizi per il suo indicato mercatino hanno riguardo anche il controllo di sanità sociale la verifica del rispetto al rispetto anticontagio covid 2019 nel corso delle attività non si sono riscontrate anomalie o casi di mancato rispetto alle norme in questione. Ehm e quindi da questo eh punto di vista io eh continuo a eh invece eh ribadire il contrario così come ha eh poc'anzi evidenziato lei ovvero sia la mancanza di eh controlli eh nei eh mercatini la mancata applicazione eh di tutte quelle prescrizioni eh contenute eh nelle ehm nei provvedimenti attuati eh dalla amministrazione eh comunale eh non parlo del riordino dei mercatini che era un progetto eh che non è mai andato in porto e che era stato ehm eh su cui si era lavorato prima che riaprissero mi riferisco appunto alla cosiddetta fase due quando i mercatini eh sono stati nuovamente autorizzati ma che eh bisognava eh controllare eh rispetto appunto delle precise eh dei precisi requisiti eh e prescrizioni. E tutto questo si è andato eh via via allentando e non vi è alcuna traccia eh di eh transenne eh di 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 dispositivi di sicurezza, di sicurezza, di igienizzanti, di polizia municipale e e quant'altro. E quindi da questo punto di vista la situazione è eh davvero critica ma è una situazione che purtroppo eh è in fase eh di eh eh evoluzione perché si parla di eh cosiddetta zona rossa e quindi eh una qualora dovesse eh Palermo venire dichiarata eh zona rossa immagino che eh i eh mercatini non eh potrebbero più svolgersi ma staremo a vedere perché eh al di là della eh zona rossa il comune eh dovrebbe eh eh effettuare eh i eh controlli eh sui mercatini e su tutte altre eh aspetti che coinvolgono la vita eh dei cittadini che non sono stati fino adesso eh affrontati perché eh a mio modo di vedere un individuo di stazionamento in una fetta così larga della città eh rischia di eh non avere una efficacia in termini di controllo e viceversa di controllo e viceversa. Bisognerebbe concentrare le energie e le attenzioni su assi viari che sono eh particolarmente frequentati dai eh cittadini visto quali sono eh diciamo le forze in campo eh e i controlli ehm da effettuare e la scarsa collaborazione dei cittadini. e purtroppo eh purtroppo eh diciamo non si viene non si viene ascoltati e e e e si rimane appunto non tanto con la mare in bocca quanto con la con la con la con la con la con sepovolezza eh che la eh situazione eh andrà a peggiorare. E allora eh ci sono ehm comunicazioni da parte dei io volevo comunicare che ho invitato l'assessore Prestigiacomo eh per quanto riguarda la questo mese di gennaio chiedendole nuovamente di partecipare non ho avuto riscontro caso mai caso mai eh solleciterò. Eh sempre per quanto riguarda la questione legata ai marciapiedi riferimento ai marciapiedi, le strade eh e al ruolo che dovremmo eh rivestire in questo frangente. Eh ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Presidente. Prego Presidente ehm ehm volevo dire che avete centrato sia lei che il consigliere Longo eh tutti i punti sul discorso mercatini e sul discorso eh problematica covid eh con l'imminente secondo me eh istituzione della zona rossa però io volevo soffermarmi sul fatto che noi eh viviamo in questa città in una in una sorta di di paradosso di cui non ne veniamo non ne riusciamo a venire a capo e ehm e dico che senso ha eh chiudere le scuole e privare i eh gli alunni specialmente nelle fasce di età eh nelle fasce di età di scuola eh della scuola media privarli della scuola quando poi noi assistiamo giornalmente a scene che eh di zona rossa e di emergenza sanitaria non hanno nulla eh a che vedere. Cioè quando il comando di polizia municipale risponde che è tutto ok e non ci sono criticità in in via Young secondo me sono totalmente eh al di fuori del della logica e della ragione perché basta andare in via Young il venerdì per vedere quello che che lo scempio che che c'è e c'è sempre stato e come se il covid e come se l'emergenza sanitaria non fosse mai venuta cioè a me veramente il resto basito quando quando leggo che la polizia municipale dice che va tutto ok c'era un servizio che era stato dato alla pro service in nel mese di di marzo o di aprile e che diciamo che eh non era un un servizio eh magari ehm magari efficientissimo però eh di fatto riusciva a regolamentare riusciva a rendere un minimo più ehm più snello e più fluido il il discorso del il discorso del la regolamentazione del dei mercati cosa che tutt'oggi è totalmente priva di controllo priva di transenne priva di regolamentazione veramente un è come se l'emergenza sanitaria eh per i mercati e per certi tipi di situazioni non fosse mai avvenuta che senso ha chiudere le scuole quando si permette eh il fine settimana eh nelle zone eh a regolamentazione pedonale quindi eh via maqueta e tutto quest'asse il gli assembramenti il eh e situazioni come se l'emergenza sanitaria non non esistesse io questo è un è un dilemma che mi pongo ed è un dilemma che voglio porre al consiglio mi sembra che ci sia un'emergenza sanitaria di serie A e un'emergenza sanitaria di serie B nessuno che eh naturalmente poi per non parlare della regolamentazione dei mercati che quella ormai resta lettera morta tutti i buoni propositi che sono stati fatti nel mese di settembre nel mese di di giugno sono rimasti lettera morta lo spostamento del mercatino di via Young alla fine del Mediterraneo tanto sbandierato e tanto eh richiesto da noi non è non ha mai avuto una nascita quindi presidente che dire eh rimaniamo sempre fermi al palo e dobbiamo sempre inseguire per gli eventi e siamo qua e speriamo che finisca presto e speriamo che di uscircene quanto prima perché così veramente è è triste andare avanti grazie ok grazie allora ci sono eh altre comunicazioni da parte dei consiglieri allora non mi pare che vi siano comunicazioni da parte dei consiglieri io comunque nel frattempo procedo con la nomina del collegio degli scrutatori e allora eh propongo come eh scrutatori i consiglieri e eh amore eh scambri e eh governale poi se ho capito bene e vi è stato l'ingresso del consigliere eh stavo dicendo il consigliere Gallè ma non l'avete più collegato allora eh eccola mi scusi presidente ma ho per me di connessione ehm non sono riuscita a sentire i nomi degli scrutatori sì allora stavo dicendo che eh è entrato il consigliere Gallè è subentrato in qualità grazie è subentrato in qualità di eh segretario in sostituzione del consigliere eh romano che si è scollegato allora quindi eh eramo alla fase della eh degli scrutatori allora avevo proposto come scrutatori consiglieri schembri amore e governale se non ci sono obiezioni da parte dei consiglieri il consiglio nomina questo collegio di scrutatori e allora ehm vi volevo eh chiedere allora e se per quanto riguarda la riunione in videoconferenza di giorno diciotto nella eh prima eh parte della mattina quindi eh differenziandola dall'orario di convocazione per discutere con in videoconferenza con la dottoressa eh Paglino e Pruiti della eh delle fasi eh diciamo operative ehm che attengono la 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 convocazione all'assemblea e se ci sono se ci sono conferme sulla disponibilità Presidente purtroppo io credo di avere lezione personalmente eh sono in videoregistrazione in 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 DAD motivo per cui non non posso garantire la mia presenza per quell'ora Ok grazie di avermi informato. Io confermo la presenza Presidente. Ok e allora e ci sono altre 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 interventi al riguardo? Di massima per me va bene Presidente. Presidente. Consigliere Amore stava parlando? Sì anche io confermo la mia presenza. Va bene e allora ok va bene allora vi verrà inviato attraverso Google Cane eh diciamo attraverso l'email dell'email dell'ottava eh una eh convocazione per lunedì diciotto alle ore eh 9.30 ok e va bene e allora eh mi scusi in merito alla questione dei comitati educativi ho visto che è stata dimostrata a me al consigliere Longo eh un'email merito alla rimodulazione dell'avviso eh per quanto riguarda lei anche per conoscenza eh la sto girando adesso il resto del componente del consiglio così da prenderne visione. Va bene va bene. Ok allora ci sono eh vabbè non ci sono comunicazioni eh passiamo oltre allora eh in questo momento eh non ci sono in questo momento verbale quindi passiamo al punto numero tre eh se eh se siete d'accordo quindi senza procedere con nessun prelievo allora eh question time ci sono richieste di intervento sul punto numero tre question time? Sì presidente. Allora allora consigliere ah consigliere Gallè sì prego consigliere Gallè. Allora mi hanno segnalato la presenza di una semdiscarica in prossimità di Cassonetti di via Simone Guli eh mi hanno mandato anche delle fotografie a quanto pare diciamo questa discarica si è concentrata in prossimità dell'ultima festività quindi dell'epifania eh sono stati buttati sia sacchetti e l'immondizio ovviamente che mobili e altre altre cose insomma quindi è un miscuglio tra Cassonetti stracolmi e rifiuti ingombranti. Ma i Cassonetti non vengono svuotati? No presidente almeno da quello che ho visto nelle foto no a me la la foto l'hanno mandata eh sabato mattina tenga conto. Allora eh per quanto guarda via comandante Guli eh c'è una discarica di ingombranti eh alla alla all'angolo con con vicolo pipitone. credo che sia questa allora se riesco col cellulare a condividere le foto le mando. Eh io già l'ho segnalata perché è una discarica di ingombranti che risale a eh prima delle feste ben prima delle feste. E per quanto riguarda la questione degli ingombranti per quanto riguarda la questione dei 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 Cassonetti quindi hm hm diciamo penso che abbiano eh provveduto a svuotarli perché hm che io sappia il servizio di raccolta hm è stato è stato è stato garantito magari c'è stato qualche ritardo però diciamo la per quanto riguarda la servizio di raccolta eh e magari verifichiamo. Al conto riguarda i servizi di ingombranti confermo che c'è un un ingente eh quantitativo di ingombranti abbandonati in via Gullì all'angolo con vicolo pipitone. Non so se riuscite a vedere. Forse no. Le foto. No. Credo di no. Non si vede. Perché col cellulare mi viene male purtroppo. Va bene comunque ad ogni modo eh per cui vedete gli ingombranti io eh posso fare un ulteriore sollecito. Ma l'altro è vero. Per cui vedete i rifiuti se ci sono rifiuti indifferenziali. Non so eh sì i cassonetti comunque sono abbastanza pieni da da quelle delle foto che mi hanno mandato. Quindi immagino che la situazione questo diciamo per quanto riguarda sabato perché la foto risale a sabato. Spero che magari nel frattempo li abbiano li abbiano svuotati ma le comunque le invio anche le foto a parte la nota. Ok nella via mail va bene se possibile sì. Ok. Grazie. Quindi ehm ha terminato ci sono altre? Ok ha terminato. No no nient'altro grazie. Grazie. Allora consigliere ci sono altre richieste di intervento? Sì presidente. Prego. Eh volevo fare presente presidente che di fronte il l'istituto autonomo case popolari e cioè nella Iuola eh adiacente all'istituto. C'è una situazione igienico sanitaria veramente eh scandalosa. Cioè la Iuola è totalmente invasa dalle bottiglie non è non è stata mai curata e mai ehm sfortita da tutte le erbacce che sono cresciute nel tempo. E soprattutto i cattivi odori che ehm provengono da quell'area sono veramente nauseabondi. Ora io ehm per caso per caso mi sono accorto di questa eh criticità perché passando da lì c'erano dei turisti che fotografavano questo tipo di situazione. E io siccome ehm mi chiedevo che cosa stessero fotografando ho capito eh fermandomi che stavano fotografando eh l'aiuola dove c'erano all'interno centinaia di bottiglie eh maleodoranti e buttate eh lì dentro. Quindi ora io non so a chi compete questo tipo di servizio perché eh secondo me non non è il normale servizio della RAP eh che appartiene per quella zona strazzeri non eh non si occupa di questo tipo di eh rimozione e di questo tipo di sistemazione. forse dipende dalla reset non lo so. Comunque farò pervenire una nota di bonifica e pulizia della della dell'aiuola in questione eh sperando che quanto prima venga risolta tale criticità. Grazie. Allora via Quintino Sella parliamo eh bisognerebbe capire anche se questa aiuola è eh di pertinenza del comune oppure di pertinenza eh del suo. autonomo case popolari perché sembra un prolungamento della eh dell'edificio eh quantomeno sembra ehm di pertinenza dell'area di questo edificio ma non di meno ehm intanto facciamo la richiesta eh per continuare dalla pulizia di questa aiuola e poi vediamo cosa ci risponderà eh la RAP la reset non so bene chi dovrà prendersi carico di questo eh di questa eh di questa eh criticità di questa anomalia eh perché presidente lì di fronte c'è un albergo e sicuramente questi turisti ehm erano stati ospiti dell'albergo oppure era si venivano da là diciamo è una situazione anche anche brutta come immagine come immagine per la città perché è una strada di passaggio è una strada che eh dove ci sono attività alberghiere che magari in questo periodo non saranno non saranno non saranno frequentatissime però eh non penso che tra parentesi sia una cosa eh dovuta all'imminente ma sarà una cosa eh chissà da quanto tempo è presente in via Quintinosella grazie. Ok va bene va bene va bene va bene questa questa mail quindi eh chiedo se ci sono altre richieste di intervento sì io presidente prego consigliere ehm volevo segnalare che ci sono diverse campane raccolta vetro eh che si sono formati cumuli di immondizia e sono di diversa natura eh ma devo mandare la segnalazione per ogni via o faccio una segnalazione magari cumulativa, diverso di che sono due o tre strane? Io direi che forse è più agevole inviare sia per me che per lei in unica soluzione una richiesta di pulizia, di svuotamento di queste campane. Se lei si ritiene opportuno, quindi può mandare un'unica mail contenente le indicazioni di queste campane. Peraltro penso che lei ha individuato delle campane che gravitano nello stesso quartiere, immagino, non in zone molto distanti tra di loro. Secondo me possiamo procedere in tal senso. D'accordo. Allora di pomeriggio ne ho le mail con la segnalazione allegata sempre con le foto. Perfetto. Grazie. Grazie. Allora, ci sono altre richieste di intervento? Presidente, avevo dimenticato la segnalazione che ci è pervenuta, insomma, sia a me, a lei, al consigliere Longo, fatta dal Don Orione. Mi sfugge in questo momento il nome della via, l'ha già fatta, giusto? Via Saverio Landolina. Esattamente, via Landolina, sì, esattamente. Ho chiesto di effettuare il diserbo e di provvedere alla... Alla raccolta. Sì, l'ho inviata via email la scorsa settimana, credo sabato, predio, mi ricordo. Ok, volevo semplicemente conferma, ma l'ho immaginata, ma credo... Sì, sì, ma purtroppo ancora non è stato fatto l'intervento, ora... Immaginavo. Casomai, se tu non ci sono i giorni, solleciterò e vi terrò aggiornati. Allora, quindi ci sono... Presidente, mi scusi, in merito alla segnalazione che ci è pervenuta mediante i social su Via Cirincione, che comunque è ormai notorio che una discarica ce l'ha aperto, dove viene chiesto il diserbo della via, perché comunque la vegetazione spontanea è lunga in marciapiede, ridosso ai muri è ormai piuttosto alta, e poi c'è tutta una discarica lungo il muro di cinta che sovrasta chiaramente l'ex linea ferroviaria di Ingombranti. Siccome chiaramente anche tutto il Consiglio è stato chiamato in causa, volevo ricordare e rappresentare questa esigenza, che comunque per il Consiglio non è nuova, perché costantemente un po' tutte abbiamo fatto via via delle segnalazioni. Sì, è il muro di cinta dell'ex Don Bosco San Polo, approfittano di questo muro di cinta per abbandonare ingombranti, ma li abbondano anche lungo il muro di cinta della Fiat, che si trova sull'altro lato della via Cirincione. Ho chiesto di provvedere alla rimozione di questi ingombranti, ci sono anche sacchetti di immondizie accanto alle campane, che purtroppo è un'area particolarmente penalizzata. Ricordo che l'idea era quella di estendere il porta a porta nel tratto della via Cirincione, che parte dalla via Sadat, in modo da omologare il sistema di raccolta in questa strada, perché in un tratto di strada c'è il porta a porta, in un altro tratto di strada invece ci sono i cassonetti. Diciamo che comunque gli abbandoni dei rifiuti avvengono in amme due tratti di strada, quindi purtroppo l'assenza dei cassonetti non porta gli incivili a non abbandonare i rifiuti, che poi approfittano delle campane per il vetro e ci abbandonano accanto gli ingombranti, o i sacchetti col vetro, o i sacchetti con gli indifferenziati e quant'altro. Detto questo, comunque, bisognerebbe insistere al fine di omologare il sistema di raccolta in via Cirincione. Ricordo che il consigliere Gallè ha inviato un'email alla RAP al riguardo, mettendomi per conoscenza. Non credo che sia stata risposta. No, non c'è mai arrivato nessun riscontro, Presidente. Non c'è stata riscontrata una richiesta in tal senso, è una richiesta comunque, secondo me, diciamo assolutamente logica e assolutamente di buon senso. Bisognerebbe insistere in tal senso, comunque io ho anche un'idea, perché è un'area che è penalizzata, perché anche la via Sadat è penalizzata, anche la via Ferri è penalizzata, quindi diciamo ci sono delle strade che sono particolarmente penalizzate, perché si trovano presenti muri di cinta, della fiera, del bosco Son Polo, della ferrovia, insomma, quindi sono strade particolarmente penalizzate, presi di mira dagli incivili. Allora, scusatemi, un attimo solo, facciamo una cosa. Ok, va bene. Purtroppo devo abbandonare i lavori, Presidente. Dovrebbe costituirmi qualcuno in qualità di segretario. Io direi una cosa, consigliere, prima che lei abbandoni i lavori, se siete d'accordo, io chiuderei i lavori qui in modo da aggiornarci a domani, dove sarà presente il dottor Di Matteo del servizio SUAP per discutere i due regolamenti, se non avete nulla è in contrario. Per me va bene, d'accordo. Va bene. Allora, sono le ore 14.00, chiuso al lavoro 14.08, quindi quando siete pronti si può procedere alla interruzione della registrazione. Io ho già scritto. Provvedo a interrompere.